Schindler Ahead Smart Mirror e il pannello Linea 800 Smart Touch trasformano il vostro ascensore in una piattaforma di comunicazione. Proiettate qualsiasi contenuto, dalle informazioni sull'edificio a messaggi personalizzati e beneficiate di proventi aggiuntivi di pubblicità e promozioni interne, il tutto grazie al nostro modernissimo Smart Mirror. E con il sistema di gestione contenuti intuitivo via web di Schindler, l'inserimento dei contenuti sullo schermo è un gioco da ragazzi. Con la sua interfaccia distintiva a tre schermi, il sistema Linea 800 Smart Touch consente di inserire contenuti facilmente personalizzabili, interattivi, originali e di grande effetto per i passeggeri, per trasformare l'interazione tra utente e ascensore in un'esperienza visiva unica nel suo genere. Aggiungiamo l'extra all'ordinario.